Da marzo è iniziato un periodo particolarmente complicato, ma la scuola Sant'Anna di Pisa, che non ha mai interrotto l'attività di ricerca neanche nei mesi più duri del lockdown, può svolgere un ruolo di avamposto per sperimentare soluzioni nuove anche dal punto di vista organizzativo. È il quadro che emerge dalla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021, che ha visto tra gli altri gli interventi del ministro dell'Università della Ricerca, Gaetano Manfredi, e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La prolettrice vicaria Arianna Menciassi. Molte domande anche di dottorandi stranieri ai nostri dieci corsi di dottorato, quindi un successo veramente importante. Questo secondo momento di lockdown chiaramente non ha facilitato l'arrivo di dottorandi, specialmente quelli che venivano non dall'Italia, che quindi avevano anche problemi importanti, non solo di visto come sempre, ma di mobilità, però i laboratori non sono mai rimasti totalmente chiusi. Anzi, un po' organizzandosi, un po' anche le attività più sperimentali, dove bisogna davvero stare vicini, gomito a gomito, con una buona organizzazione e alternanza, sono andate avanti. La rettrice Sabina Nuti, nel corso della sua prolusione, ha ripercorso gli ultimi 12 mesi della scuola, partendo dai molteplici episodi positivi che avevano preceduto l'emergenza Covid-19, ma, ha proseguito Nuti, da marzo è iniziato un periodo particolarmente complicato per la scuola, come per tutte le università italiane. Direi di proseguire con la nostra attività di punta su aree di ricerca fondamentali per il futuro del mondo, aprire sempre di più le nostre porte a studenti di valore e di merito a livello nazionale, stringere sempre di più un'alleanza anche con il soggetto privato, perché congiuntamente ci si possa prendere cura del talento in Italia, quale volano per la rinascita del nostro sistema italiano e quindi questi sono i propositi per il futuro. La rettrice ha sottolineato come purtroppo l'Italia resti la cenerentola della spesa pubblica nella ricerca, bisogna fare molto di più, ha detto rivolta alle istituzioni.